Carissimi fratelli nell'Episcopato, nel Presbiterato, carissimi giovani, porto ancora negli occhi, negli orecchi, ma soprattutto nel cuore, gli echi di quanto abbiamo vissuto ieri sera durante l'incontro col Santo Padre al Circo Massimo, quando alla fine avete acceso tutte le vostre piccole luci, sembrava che il cielo stellato si fosse riversato su quella immensa prateria. Ora è per me una gioia grande presiedere questa celebrazione con tanti fratelli vescovi, presbiteri e con voi, nell'attesa di incontrare nuovamente, tra poco, il Santo Padre. Ieri sera vi è stato vicino, vi ha ascoltato con attenzione e vi ha indicato, nell'incontro con Gesù, il Risorto, il segreto per una vita buona. Questa messa rappresenta non solo il culmine ed un cammino al quale vi siete preparati da tempo, ma anche il modo più bello con cui ringraziare il Signore per il dono della vita, e lasciatemelo dire per quella speciale condizione in cui vi trovate, che è quella dell'età giovanile. Chissà come devono essere state difficili in alcuni tratti le strade che avete percorso per arrivare a Roma, quando il peso dello zaino, il caldo e la sete vi hanno fatto sperimentare la fatica e la stanchezza. Qualcuno forse si sarà chiesto, ce la farò, o più radicalmente, ma ne vale davvero la pena? Vedete, queste stesse domande se le ha poste anche il profeta Elia, come ci ha detto la prima lettura. Sono domande profonde, cari ragazzi, domande che riguardano il cammino della vita, dove stanchezze, demotivazione, disillusioni, sfiducia sono sempre in agguato. L'esperienza di questi giorni di cammino ha contribuito a farvi capire che nessuna difficoltà e nessuna paura sono insormontabili, purché non le affrontiamo da soli. Il Signore non smette di mandare il suo angelo a portare al momento giusto ciò che serve per riprendere le forze e ravvivare il coraggio. So che molti di voi vivono la precarietà di una situazione lavorativa che vi impedisce di fare programmi per il futuro. So che in tanti provenite da famiglie dove non è facile vivere. Nemmeno voi chiudete gli occhi davanti alle tante emergenze che sta attraversando il nostro Paese, anche se probabilmente vi sentite oppressi e schiacciati da problemi che riguardano il quartiere in cui vivete o la città dove abitate. Per questo e per tutto ciò che potrebbe farci sentire scoraggiati, impotenti, inutili, la figura del profeta Elia vi può parlare con forza. Anche Elia veniva da un lungo cammino in fuga da una regina iniqua che lo perseguitava da anni e per causa della quale tre volte ha rischiato di morire di fame. La sua fuga ci fa pensare ai tanti giovani che vivono oggi sulla loro pelle la stessa condizione del profeta e che devono rifugiarsi o migrare in altri Paesi a causa di guerre o dittature o carestie. Alcuni di loro, e questo è un fatto commovente, hanno camminato anche accanto a voi e questa credo che per tutti sia stata un'esperienza bellissima. Però per noi è importante ricordare che ogni volta che il profeta pensava di morire ha sperimentato l'aiuto di Dio. La prima volta sono stati dei corvi a sfamarlo, come a dire che nel creato ci sarebbero risorse necessarie per tutti. Dio, si legge nel Salmo, provvede il cibo ai piccoli del corvo che gridano a Lui. Nel racconto biblico, i corvi sono addirittura lo strumento con cui il Signore viene in aiuto al profeta. La seconda volta Elia viene soccorso da chi meno se lo poteva aspettare. Una povera donna, vedova e straniera. Questa figura ci ricorda che siamo sempre chiamati al dovere dell'accoglienza in qualunque condizione ci troviamo. Anche chi è rimasto con poca farina o con poco olio come la vedova che soccorre Elia può sempre fare qualcosa perché la provvidenza agisce sì miracolosamente ma si serve delle nostre mani, dei nostri piedi e soprattutto giovani del nostro e del vostro cuore. Infine, come abbiamo appena ascoltato, quando Elia sembra al culmine della disperazione, il Signore col suo angelo lo invita a proseguire il cammino. È proprio a partire da questa ulteriore crisi che la missione di Elia diventerà più importante. Nel momento in cui il profeta è più scoraggiato, il Signore gli dà forza e gli chiede di impegnarsi per il proprio popolo coinvolgendo anche altri in questo servizio. Carissimi, su questo sfondo la pagina del Vangelo di questa domenica ci fa fare un passo decisivo quello che porta a riconoscere in Gesù il pane della vita, il pane vivo che ci assicura una vita piena, bella, riuscita, eterna. Cari giovani, come vi ha detto il Santo Padre ieri sera, non stancatevi di cercare Gesù lui vi capisce fino in fondo perché lui solo sa cosa c'è davvero nel cuore dell'uomo e nel cuore di ciascuno di noi. Il vero pellegrinaggio a Gesù come compagno di viaggio e come meta è come meta. Perciò il vero pellegrinaggio non può mai deluderci. Cari giovani, nutritevi della parola di Gesù e del pane eucaristico. lasciatevi interpellare e incontrare da Lui. La vostra giovinezza, statene certi allora, non sfiorirà mai e continuerete ad essere un vero lievito di speranza per la nostra Chiesa e per la nostra società. Amen.